Ringrazio innanzitutto i cittadini che hanno espresso fiducia nei confronti di questa lista, i sostenitori che ci hanno creduto sin dall'inizio e i candidati consiglieri che attualmente sono consiglieri che hanno lavorato con me per costruire sia l'unione e l'unità all'interno di questa squadra e che hanno dato il massimo per fare una proposta di governo alla città che fosse credibile, operativa e concreta. Il punto su cui interverrò per prima, essendo che la stagione estiva è alle porte, è chiaramente di presentare una città che abbia un decoro urbano di qualità, quindi chiaramente interverremo sul lungomare e sull'arenile per restituirne un'immagine che sia degna di una località turistica.